Entra nel vivo la 65esima edizione del Taormina Film Fest, un'edizione importante per il rilancio della Kermess con un cartellone altrettanto importante che quest'anno vedrà anche la presenza di ben tre film della Film Commission. Madrina dell'evento, Rosio Muniz Morales, star della Kermess Nicole Kidman, che ha incantato tutti con la sua Masterclass ricevendo al Teatro Antico il premio Art Award. L'attrice si è raccontata a partire dal suo grande amore per l'Italia fino ad arrivare al cinema. Una preparazione durata ben nove mesi, quella che ha portato alla realizzazione della 65esima edizione della Taormina Film Fest, hanno spiegato con soddisfazione i direttori artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte. Grande film, d'altra parte un festival è fatto di film, io credo profondamente in questo e anche per questo forse il programma è così ricco perché ho proprio incastrato in ogni possibile spazio, ogni possibile film. Abbiamo più di 70 titoli, abbiamo tantissimi corti e film di tutto il mondo. Mi diceva Gianvito l'hai contato i 24 paesi. 24 paesi e questo era quello che volevamo, creare un rapporto umano con la città, con la Sicilia e creare questa sorta di coesione sociale. Andare al cinema non è soltanto vedere un film ma poterlo commentare insieme, poter sviscerare degli argomenti, guardarsi negli occhi. Ecco, quello che vogliamo fare è proprio questo.